Ciao, sono Roberto e sono un allievo dell'Eco Voice Academy. Volevo informarvi che ogni anno potete risparmiare almeno una tonnellata di anidride carbonica riciclando e riutilizzando i rifiuti che generate. Vi faccio un esempio. Ricevete un pacco dalla nonna del sud, esattamente come me, invece di buttare tutti i contenitori che ricevete, tutti i barattoli di vetro, rispediteli alla nonna. In questo modo fate un favore sia all'ambiente che alla nonna. Oggi si parla di te in tutto il mondo E la gente ne sorride a festa Oggi si parla soltanto di te nella mia testa Minimizzo, tanto non mi senti Sempre il secondo, il primo dei perdenti Ho perso idee, fantasia, autocontrollo anche il tuo ultimo C'eri tu, c'eri tu, c'eri tu in mezzo a questo inferno Può dirmi meglio un minuto ma felice Che triste in eterno Però, però, non per caso, sfondura Adesso ho troppa paura Sei sempre stato più forte tu Mi chiedo come potrei esserlo io Di più Di più Di più Di più Lontano Lontano Probabilmente Probabilmente Dovò esserlo io Di più Non per caso Mi chiedo come potrei Mi chiedo come potrei Oggi Mi chiedo come potrei